Un saluto dal Tg della mobilità per lavori in zona San Giovanni è chiusa al traffico via Pozzuoli, le linee dei bus 51 e 77 da Largo Brindisi proseguono per via Taranto, via Monza e via La Spezia. La linea 77 effettua tutte le fermate presenti sul percorso deviato. Lavori in corso anche su via Gallia, la strada è chiusa e i veicoli pesanti tra via Illiria e piazzale Metronio. I bus della linea 671 devono quindi cambiare percorso proseguendo per via Licia, piazza Epiro, via Pannonia e piazzale Metronio. E' tutto appuntamento alla prossima edizione.